Ciao a tutti, burger di carote, ho visto la ricetta da Giulie Caggiani su Instagram con un coppapasta, serve un coppapasta, un uovo, olio, sale, spezie e 300 grammi di carote, le ho sbucciate, pelate, adesso le grattugio, ok? Poi unisco le carote grattugiate con l'uovo, le spezie, un po' di sale, un pochino di olio magari anche, formo gli hamburger con il coppapasta rotondo, piccolino, medio, quello che avete, e cuocio in padella con dell'olio, appunto, questi burger e basta, facilissimi, velocissimi, proviamo insieme, fateli anche voi. Io un po' di pangrattato ce lo metto anche se non c'è scritto, perché se no in padella, a parte che si sprecciola, non riesco a fare un composto decente, quindi carote, uovo, metto un po' di pangrattato, e poi li metto in una teglia da forno, con il coppapasta, perché deve essere un composto denso, se lo lasciate senza pangrattato in padella non viene bene. Adesso metto due cucchielli di pangrattato, metto tutto su una teglia da forno con una carta, invece che in padella le ricette si possono modificare, basta che vengano bene. Con quattro cucchielli di pangrattato è venuto più denso il composto, adesso ho messo una padella con dell'olio invece che nel forno, mettiamo un po' di impasto dentro il coppapasta, con la mano sinistra non riesco a fare niente, si distrugge tutto. Mettiamo dentro, appiattiamo bene e vediamo se viene qualcosa di decente. Se non viene bene in padella, cuocete in forno, ok? Schiacciamo bene, ok, là, anche con le mani, potete farlo, secondo me che viene bene. Adesso schiaccio bene e cuocio, vediamo se viene bene. Vengono piccoli, ecco il coppapasta piccolo, potete anche impastarli se riuscite con le mani, ma io non riesco, quindi vabbè, ne farò 3, 4, 5, non so quanti vengono, proviamo. Ok, ne sono minuti solo 3, però comunque col coppapasta piccolo, pochi ingredienti, perché il carote ne ho usate pochissime, 300 grammi, ma sono poche, e quindi adesso sono cotte. Dovrei metterli sulla carta assorbente, ma non ce l'ho, quindi li metto sul piatto e me li mangio. Burger di carote, fateli anche voi, semplici, facili, veloci. Questo è il risultato finale dei burger di carote, belli, mi piacciono, adesso li mangio. Buon pranzo, a presto.